Una domenica bestiale in tutti i sensi, quella di domani per la settima giornata del campionato di Serie D. Mentre l'Akragas in casa contro la Battipaiese cerca la terza vittoria consecutiva, ad Agropoli i delfini di Pirozzi ricevono la capolista Torrecuso in un match dove può succedere di tutto, ma che vede padroni di casa leggermente favoriti, anche dopo la vittoria ottenuta e rimonta domenica scorsa sul campo della Battipaiese. Tornando al match dell'Akragas dopo la rifinitura, Betta sembra deciso a sostituire lo squalificato Vindigni con Agatino Chiavaro che andrebbe quindi a comporre il pacchetto difensivo con Astarita, mentre sugli esterni, difficile vedere Terminiello, che ha ancora qualche problema muscolare, probabile che De Rossi si riprenda la fascia di sua competenza, con Dentice a sinistra. E a centrocampo che Betta ha qualche dubbio, di sicuro ci saranno Baiocco e Bonaffini, quest'ultimo è tornato ad essere smagliante, e del suo cambio di passo potrebbe essere utile nello scardinare la difesa bianconera. C'è curiosità di capire se il quarto under verrà utilizzato in mediana o in avanti. In quest'ultima situazione sarebbe nuovamente De Zaitresor il centravanti con Nicola Rena e Catania come al solito ad agire sui fianchi della retroguardia Battipaiese. Se invece Betta dovesse ripresentare a centrocampo uno tra Risolo e Aprile, allora Meloni tornerebbe al centro dell'attacco in alternativa a Chiaria. I due attaccanti senior dell'Akragas sembrano in ripresa dopo un periodo di appannamento. Soprattutto Meloni sembra abbia smaltito del tutto il problema al gluteo, il pubblico si attende ai suoi gol. Per i biancazzurri troppo importante vincere contro un avversario che è in crisi e che in settimane è rimasto anche senza la sua guida spirituale. Per motivi disciplinari è stato cacciato squillante. In panchina domani all'Esteneto andrà il tecnico delle giovanili calabrese, ma già da lunedì ci sarà il nuovo trainer. In pallottaggio anche Pino Rigoli che tornerebbe in corsa comunque su una squadra che ha una rosa di tutto rispetto. Dal calcio alla pallacanestro. Dopo il cappò interno nel turno evrasettimanale contro il Verona, la fortitudo aggrigendo sarà di scena a Casale Monferrato contro un altro avversario costruito per vincere. Una partita complicata che nasconde parecchie insidie. La squadra di Gianni deve ritrovarsi e soprattutto deve sistemare alcuni meccanismi difensivi che con gli scaligeri si sono ingeppati e sono costati cari. E adesso parliamo di due atleti della nostra provincia che si stanno comportando benissimo in campionati importanti. Nel calcio in Zerebì l'attaccante palmese Ghetano Monachello in forza all'Angiano, dopo essersi sbloccato domenica scorsa nella sonante vittoria 4-0 contro il Vicenza, realizzando la quarta rete, è stato convocato per domani a Coverciano dal commissario tecnico della nazionale Under 21 cadetta Piscedda per uno stage. Una importante vetrina per la punta grigentina di proprietà del Monaco dopo aver indossato l'Azzurro nell'Under 17. Per quanto riguarda la palacanestro è stato un inizio straordinario per la guardia canicattinese Ilaria Milazzo in forza all'Umbertide nella massima serie. Dopo due vittorie le Umbre sono a punteggio pieno e domani ricevono in casa l'Umana Venezia. Ilaria nella splendida affermazione contro lo Spezia nell'ultimo turno ha messo a segno 13 punti, mostrando una crescita costante ai numeri per diventare nel più breve tempo possibile una delle migliori 10 italiane.